Grazie Cristina, grazie Cristiana, grazie a Charles Melman per questa grande occasione di confronto, che è un grande onore e oltre che un grande piacere. E grazie anche a Yannia Yerkov per questa introduzione, per questo riferimento sia storico, molto importante, chiarificatore, sia etimologico. Ho imparato una cosa importante sull'etimologia di confine legata alla parola ucraina e anche per questo riferimento alla questione del godimento, che a mia volta, pur venendo da un'altra formazione, che non è quella psicoanalitica, avevo pensato di mettere a tema. Non so più se devo parlare in francese o in italiano, però. Federico, forse questo che hai detto, intanto lo puoi tradurre tu. Ah, sì, allora, io vorrei ringerciare i miei amici, Cristiana Fanelli, Cristina Guarnieri, ringerciare Charles Melman per questo honore e questo piacere anche di questa confrontazione, di questo mattino. E io vorrei ringerciare i miei amici a Yannia Yerkov per la storia del conflitto tra la Russia e l'Ucraina e l'Ucraina e anche la storia della rifianza tra l'Europa, e anche la storia dell'Ucraina e l'Ucraina e la storia dell'Ucraina e l'instabilità di tutti i territori e le situazioni di frontiere. E anche l'altra question di l'Ucraina, che io avrei anche volevo posare in quanto domanda a Charles Melman, tutto in venendo di una altra, diciamo, di una formazione, di un altro lavoro e pratica che non è quello della psicanalisi ma della filosofia. Io penso che la filosofia anche posa delle questione e essaia di construire questo tipo di discursi che non è proprio liberato dalla giustizia, ma ha una certa capacità, un certo savoir-faire, diciamo, con la question della giustizia. Ma è una question un po' marginale, quindi io la lascio di un lato. Mi scusate, allora lei parla in francese. Io devo tradurre, però dovremo fare delle frasi brevi, va bene? Se volete mi traduco io. Tanto è breve quello che dirò, sia quello che dico all'inizio, sia dopo che Charles Melman avrà fatto il suo discorso, magari avrò delle altre questioni, ma io conto di stare dentro dei limiti abbastanza gestibili, quindi posso dirla io nelle due lingue, se volete, magari non sarà... Questo è meraviglioso. Non sarà perfettissima la traduzione, nel senso che magari mi dimentico dei pezzi, ma pazienza. D'accordo. Non sarà nulla di imperdibile, quello che perderemo. Dicevo, partirei senz'altro dalla formula che Charles Melman ha coniato e sotto la quale abbiamo così deciso di mettere la chiacchierata di questa mattina, cioè ma appunto la guerra è una questione d'avecchi, è roba d'avecchi. Io mi sono domandato, che voleva dire, Charles Melman, in me domandando se la guerra è un truc di vieux, che alcuni, on suppone non vieux, quindi dei jeunes, la trovano... C'è questo che questa formula vuole dire? La trovano distante, inimaginabile, insensate, che la guerra appartiene, diciamo, al passato? E, effettivamente, tutta una serie di reazioni occidentali, on tratta un sentimento di questo tipo. Ma tiens, la guerra è di nuovo là, ma è che non c'è qualcosa di passato? Perché è che il presente ciò di nuovo, ciò di nuovo, ciò di nuovo, questa esperienza tellement vielle e absurda? Dicevo, quando ho preso conoscenza, insomma, ho letto questo titolo, questa formula che Melman ci proponeva, chiedendoci e chiedendomi, ma la guerra è una cosa da vecchi, punto di domanda. Allora la prima considerazione che mi è venuto fatto di fare era di questo tipo, ma forse una formula di questo genere, suppone che qualcuno si faccia questa domanda, questo qualcuno evidentemente non è nel luogo dei vecchi, visto che domanda intorno ai vecchi e alla roba dei vecchi, o tout de vieux, allora sono dei non vecchi, forse dei giovani, che trovano distante, inimmaginabile, insensata, assurda la guerra. Cioè la guerra parterrebbe a un passato che torna in modo incomprensibile, inquietante, pensavamo che fosse appunto qualcosa di confinato altrove, che non ci riguardasse più. Ecco, questo potrebbe essere un modo di leggere questa frase che Melman ci propone, questa provocazione evidentemente che Melman ha messo sul tavolo. Allora, se c'è bien le cas, une première considerazione che je ferai, c'è che cette guerre marque, in effetti, une sorte de retour. C'è ce qui nous frappe, nous qui sommes des observateurs, disons, nous qui regardons de loin ou qui supposons pouvoir regarder de loin avec cette distance de quelqu'un qui n'est pas tellement impliqué et qui peut juger comme absurde, comme étant de l'autre, de l'insensé, de l'inimaginable, ce qui revient cependant, ce qui est de nouveau là, retour de la guerre après longtemps. Elle ne faisait plus partie de notre horizon direct depuis des décennies et des générations. au retour de la guerre en Europe après l'avoir déplacée au lointen, au Vietnam ou en Irak, même si on ne peut pas tellement oublier la Bosnie. Et Yann Akerkov vient de nous rappeler le début des hostilités Bosnie, Serbie, etc. forse devo tradurre anche questo pezzo, dicevo una prima considerazione che potrei fare è che questa guerra effettivamente, da un certo punto di vista, segna un ritorno. è la cosa che ci colpisce, a noi che quando siamo colpiti da questo ritorno ci mettiamo nella posizione di chi osserva, di chi guarda da lontano o suppone, immagina, ed è molto un immaginario, molto una supposizione immaginaria, di guardare da lontano e di poter essere in questa condizione di lontananza, da cui appunto si può dire lontananza nel tempo e nello spazio, da cui appunto si può dire noi siamo quelli che non avevano più niente a che fare con la guerra eppure eccola qua, è una cosa da vecchi che è di nuovo qua, è una cosa lontana che è di nuovo qua. Effettivamente c'è un ritorno della guerra dopo molto tempo, dopo molto tempo che non faceva più parte del nostro orizzonte diretto, soggettivo, da decenni, da generazioni, ritorno della guerra in Europa dopo che la guerra era stata spostata, era stata rinviata lontano in Vietnam, in Iraq, anche se non si può dimenticare la Bosnia, la Serbia, per esempio l'impegno italiano in quelle regioni, non poi così tanti anni fa. Allora c'è l'erturde qua, potente, potente di un'expérience molto proche del fatto che dei persone muano a la guerra e che noi anche potremmo morire in questa guerra, per esempio a causa di questa menace nucleare che i russi non cessano di exerciare in bombardando e in conquistare le installazioni nucleare ukraïne, e poi ritorni di un'opposizione explicite e littrale entre le grande puissance géopolitica cioè stavo dicendo ritorno di che cosa? Che cos'è che ci colpisce a noi che ci rincantucciamo in questa posizione immaginaria di osservatori? Ma probabilmente ritorno del fatto che ci sono delle guerre che in queste guerre la gente muore e che la gente muore non solo nella lontananza di uno spettacolo io ricordo la guerra in Iraq nel 91 era uno spettacolo televisivo per noi io ero molto giovane e probabilmente non capivo nulla e non che adesso sia più facile ma vedevo questi razzi colorati nel cielo nero di Baghdad era uno spettacolo assolutamente inedito inquietante che era difficile iscrivere nel reale aveva qualcosa anzitutto per qualcuno della mia generazione qualcosa di cinematografico e poi appunto la questione non solo che si muore là nella lontananza ma che potremmo noi morire direttamente trascinati dentro le conseguenze di questa guerra e cioè dentro questa guerra per esempio ed è una cosa che nell'opinione pubblica nel discorso di questi giorni di queste settimane torna continuamente per esempio a causa di quella minaccia nucleare che i russi non smettono un attimo di ripetere di mettere in atto bombardando e puntando a conquistare le centrali le installazioni nucleari dell'Ucraina rischiando di diffondere di innescare un effetto Chernobyl in qualche modo che subito ci fa sentire che noi non siamo altrove che noi non siamo fuori che noi non siamo degli spettatori e poi l'altro ritorno mi sembra inatteso ma è un'ingenuità a non attenderselo l'altro ritorno che questa guerra segna è come un'irruzione nel tessuto del nostro discorso e anche della nostra esperienza ma è un'erruzione ma è un'erruzione ma è un'erruzione perché c'è un'erruzione un'erruzione l'altro ritorno è l'opposizione explicita che questa guerra marca nel campo del discorso e dell'expérience che è la nostra il ritorno è l'erruzione dell'opposizione delle grandi puissanze geopolitiche allora che questa l'opposizione sembra essere pacificata pacifier e aplatis qualcosa che sembrava essersi completamente appiattito in un insieme di confronti più che di scontri di natura tecnologica più che territoriale di natura informatica più che come dire militare dove erano le informazioni più che i corpi dove erano i beni le ricchezze e i segni della ricchezza il segno finanziario della ricchezza molto più che diciamo così i corpi e i territori ecco mi sembra che tutto questo torni ci eravamo detti ci era stato detto e anche in grande misura era diventato vero che le guerre fossero prevalentemente tecnologiche informatiche commerciali e allo stesso tempo ritorna qualcosa che forse non era mai andato via non era mai stato evacuato davvero dal paesaggio cioè che al fondamento di quei segni della loro operatività al fondo di quei segni della loro potenza c'erano di dire questo retor magari c'è il ritorno di qualcosa che non è mai parte quella è questa cosa che non è mai parte di nostro paesaggio y a-t-il qualcosa che lia questi diversi ritori gli unsi ai altri il ritorno della guerra il ritorno della morte come operatore storico-politico il ritorno dei cori e dei territori come enjeu strategico il ritorno delle puissanze come sujets storico-politiche o il ritorno dei sujets storico-politiche a cui ci siamo abituati a cui il discorso pubblico ci ha abituati o il ritorno dei sujets storico-politiche soi-diszion democratiche e io mi domande e io domande a Charles Melman si, tutto ciò ha a vedere con il fatto che sia precisamente nel domenio della democrazia che tutto ciò fa ritorno ma là di nuovo forse devo tradurre in qualche modo quel che dicevo mi chiedevo ma c'è forse un legame un punto di contatto tra i vari ritorni che ho evocato torna questo torna quello torna quell'altro ma c'è forse un punto di contatto per cui è però una certa cosa una stessa cosa che ritorna nella misura in cui non era mai stata davvero evacuata dal campo era continuamente sempre rimasta al fondamento dell'operatività di ciò che continuava a funzionare su un altro livello c'è qualcosa che lega tutti questi ritorni e che è la cosa che ritorna ritorno della guerra della morte come operatore storico-politico che pensavamo di aver tolto di mezzo dal campo ritorno a dei colpi dei territori ritorno a delle potenze come soggetti storico-politici o anche direi come soggetti che vanno visti al posto di quelli che chiamavamo soggetti storico-politici ai quali siamo abituati ai quali il discorso pubblico il discorso dei nostri giornali il discorso dei nostri politici ci ha abituati in luogo di quelli che chiamiamo i soggetti storico-politici democratici cioè tutto questo non ha a che vedere col fatto che questi ritorni o questo ritorno avviene nel campo della democrazia almeno per noi per quello che è la nostra esperienza in questo campo che avviene questo ritorno e direi non è che tutto questo ha a che vedere col fatto che la democrazia si mostra come non più un dato evidente e che va da sé e che è assicurato e che è garantito e che è conquistato una volta per tutte nostra democrazia è un passaggio è un risultato diciamo momentane con il fatto che c'è nel campo della democrazia che la morte fa il ritorno come operatore storico-politico dopo che la democrazia aveva tutto fatto per expulsare la morte del campo delle operazioni storico-politiche e che c'è che c'è nel campo della confrontazione democrazia entre suget storico-politiche che fa il ritorno questa cosa che non è non è un suget storico-politiche o che non è un suget nel senso della definizione democratica del suget e delle definizioni che le pensate e le esperienze democratiche ci offre del suget e chi è questa espèce di moloch evoqué giustamente parlo puissance dunque seconda questione che porrei e su cui inviterei se lo vuole se ne ha voglia ne ha la gentilezza nel no a ragionare con noi se tutto questo non ha a che vedere col fatto che questi ritorni o questo ritorno avvengono nel campo della democrazia mostrando mostrandoci e questo è uno schiaffo è qualcosa che scuote è un trauma rivelatore però come tutti gli schiaffi come tutti i traumi del fatto che la democrazia non è un'evidenza o un'ovvietà non è qualcosa di dato ovviamente di garantito ovviamente non è uno stato o una condizione è il tratto instabile di un processo instabile direi così comunque non è affatto estranea alla guerra ma vi è implicata da cima a fondo è chiamata in causa dalla guerra perché lei stessa è il risultato di una serie di guerre ed è incomprensibile se non la consideriamo dentro intimamente dentro questo tragitto di cui la democrazia appunto è un tratto è un passaggio mi domanderei vi domanderei se non è appunto nel campo della democrazia che la morte fa ritorno come operatore storico-politico dopo che la guerra aveva fatto di tutto per espungere per espellere questo elemento della morte dal campo storico-politico per farci dimenticare che la storia e la politica hanno a che fare con il negativo diciamo così e poi mi chiederei e vi chiederei e chiederei a tutto questo non ha appunto a che fare col fatto che è nel campo del confronto democratico tra soggetti storico-politici che fa ritorno questa cosa che non è affatto un soggetto storico-politico che non è affatto un soggetto nel senso della definizione canonica che noi diamo di soggetto nelle democrazie e sul fatto che molti pensieri sul soggetto sono influenzati dall'essere nati nel campo delle democrazie non si può pensare a un soggetto diviso nel senso lacaniano per esempio se non perché stiamo dentro a un campo democratico non si può pensare a un campo democratico in fondo se non un campo di soggetti che sono divisi in senso lacaniano poi questo non è detto che vada pensato letteralmente così non si deve sapere che si è lacaniani nel momento in cui si dicono queste cose ma il soggetto diventa democratico nella misura in cui ha una qualche divisione da sé e la democrazia è tale nella misura in cui i poteri sono divisi da sé e cioè sono ripartiti e spartiti gli uni negli altri e gli uni attraverso attraverso gli altri e dunque non è che quel che colpisce e che è rivelatore come ogni trauma dicevo è proprio il fatto che fa irruzione nel campo democratico qualcosa che non ha a che vedere con un soggetto affine al democratico cioè con quella cosa inquietante e sconcertante che è ciò che chiamavo potenza una potenza geopolitica una potenza geopolitica proprio nel senso in cui gli storici i politologi gli scienziati della politica eccetera parlano di potenza allora e là io mi racconto e le sui le chant livre per che Melman puisse intervenire e puisse noi dire la 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 che io vorrei posare e lui adresser sarei de ce type peut-être quelle différence y a-t-il entre un sujet historico-politico-démocratique e une puissance géopolitique quel rapport y a-t-il entre un sujet démocratique e une puissance qui n'est pas de l'autre de ce que nous appelons subjectivité car elle semble cette puissance cette entité que l'on peut appeler puissance semble se construire et s'imposer à partir du fait qu'elle ne renonce jamais à sa puissance qu'elle ne cesse jamais de jouir de sa puissance ou de son pouvoir c'est pour cette raison que cette référence à la question de la jouissance me semblait tout à fait pertinente et orientante qu'elle ne cesse jamais de réaliser ou d'actualiser ce qui est de l'ordre de sa puissance s'agit-il seulement d'un rapport d'extériorité d'externité de condamnation de dénonciation de dépassement ce sont nos réactions subjectives les plus communes nous sommes ceux qui ont dépassé et qui peuvent dénoncer la nature un peu inhumaine asubjective un peu folle de cette puissance qui ne renonce jamais à elle-même à jouir d'elle-même un peu psychotique disons même si là je ne suis pas tellement convaincu de la possibilité de transférer ce type de langage psychopathologique à la lecture du fait géopolitique ou bien s'agit-il d'un rapport qui est plus intime plus subtil et donc plus inquiétant plus problématique qu'il ne suffit pas de dénoncer de refouler de dire nous ne sommes pas comme ça nous ne sommes pas des puissances nous ne devons pas adopter la logique de la puissance nous devons nous tenir en deçà de tout ça nous ne devons pas participer nous ne devons pas soutenir nous ne devons pas faire autre chose que dénoncer donc qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a-t-il d'un point de vue général en politique entre sujet et puissance entre sujet et jouissance mais en politique là je crois que l'enseignement de la psychanalyse puisse nous dire quelque chose de transférable sur le terrain d'une analyse géopolitique quel rapport y a-t-il entre sujet démocratique c'est-à-dire divisé et puissance en tant que puissance non divisée et que cependant elle est opérative et est quelque chose avec qui nous devons nous confronter et peut-être quelque chose qui est dedans le champ démocratique lui-même n'est pas or n'est pas ailleurs dicevo un rapporto solo di esteriorità sono solo loro che sono delle potenze che non rinunciano mai a godere della loro potenza mentre noi siamo quelli che virtuosamente sono divisi dalla potenza e dunque possono porsi nella posizione dell'osservatore del denunciatore di colui il quale dice noi siamo fuori da tutto ciò noi non metteremo piede in tutto questo noi non forniremo aiuti noi non daremo supporto noi siamo altrove è davvero così oppure c'è un rapporto più intimo più problematico più complesso più topologico anche nel senso proprio lacaniano della topologia tra il soggetto democratico e la potenza che non cessa mai di godere della potenza un final dernier vraiment dernier mot est-ce que c'est juste cela que le vieux save est-ce que c'est de cette façon là que l'on pourrait lire la formule que Charles Mellement nous met sous les yeux aujourd'hui est-ce que c'est bien ça que le vieux save est-ce que c'est pour cette raison que la guerre a l'air d'être un truc de vieux selon sa provocation le vieux serait-il l'image de cette vision libérée de beaucoup disons d'imaginaire est-ce qu'il serait l'image de cette vision nue de cette vision dépouillée de beaucoup d'imaginaire de distance de vue de lointain de vue de spectateur est-ce qu'il serait l'image d'une certain vision capable de saisir un noyau réel de l'historico politique qui apprait à ce rapport peut-être incompronable entre sujet et puissance entre démocratie et relative impuissance structurel impuissance de la démocratie et puissance geopolitique allora traduco quest'ultima considerazione poi mi taccio e lascio la parola a monsieur Melmont che ringrazio l'aveva ascoltato e ringrazio per quel che potrà dire in risposta o naturalmente non in risposta ma per tutt'altre vie mi chiedevo cioè concludendo ma non è magari questo che i vecchi sanno e non è magari per questo che convochiamo la figura dei vecchi che viene fatto di convocare la figura dei vecchi in questa discussione che cos'è che sanno i vecchi perché ci viene fatto di convocare questa immagine dei vecchi e di dire che la guerra è una cosa da vecchi e che ci ricorda che c'è qualcosa di vecchio di cui purtroppo siamo contemporanei che la nostra contemporaneità è fatta strati addentro tante cose certamente anche molto giovani e nuove ma anche altrettanto molto vecchie o forse eterne cioè ma non è che i vecchi veniva da chiedermi e da chiedere a Charmaine se la sua formula non potrebbe anche così essere letta cioè non è che i vecchi sarebbe appunto l'immagine di questa visione liberata di molti immaginari spogliata di molti immaginari non è che i vecchi sarebbero l'immagine di questa visione nuda di immagini e uso apposto una formula ambigua una formula un po' contorta perché forse anche l'immagine del vecchio che ha una visione spogliata di immagini potrebbe avere qualcosa di immaginario e tuttavia mi chiederei ma non è che anzitutto l'immagine dei vecchi non è lì per dire questo sguardo spogliato di immaginarie che punta su un nocciolo reale diciamo così dello storico politico e su questo nocciolo reale dello storico politico che ha a che vedere con un rapporto non evacuabile non facilmente liquidabile o forse non liquidabile del tutto tra soggetto e potenza tra democrazia e grandi potenze geopolitiche e tra quello strano nodo che provavo a dire così prima tra la relativa impotenza delle democrazie che è ciò che le fa democratiche e il fatto che però devono stare in un campo che è geopolitico dove cioè giocano delle potenze che sono tali in quanto non divise e che sono non democratiche in quanto non divise ma ultima questione non è forse perché c'è della potenza che si può rinunciare alla potenza non è forse perché c'è della potenza che sostiene le democrazie nel loro essere impotenti che le democrazie possono giocare la carta nobilissima magnifica ma con un tratto immaginario della loro divisione e dunque della loro divisione dalla loro stessa potenza e dunque della loro relativa impotenza allora io mi fermerei qui io mi arrête là e io metto il suo stampo e io me metto in la position di l'eco e con grande plaisir e honore rossi merci Merci beaucoup professeur Léoni. Permettez-moi d'abord de dire, de remercier Janshe pour son introduction et lui dire que nous sommes sensibles à sa souffrance, de constater que selon son habitude, je dirais le monde slave et son histoire est méconnue par l'Occident, alors que l'inverse n'est pas exacte. En ce qui concerne notre propos… Je vais traduire un instant, s'il vous plaît, messieurs. Ringrazio le professeur Léoni, ringrazio Janshe Yerkov, et je veux dire que nous sommes sensibles à sa souffrance en constatant que le monde slave dans l'Occident n'est pas aussi connu comme le monde occidentale entre les Slavis. En ce qui concerne notre débat avec le professeur Léoni, pour lequel je le remercie, ainsi que pour sa remarquable contribution, je dirais ceci. Alors, pour ce qui concerne le débat avec le professeur Léoni, que je remercie pour le soutien, je dirais ce que vous savez, Freud a écrit un livre qui s'appelle «Warum Krieg, pourquoi la guerre ? » Comme vous le savez, Freud a écrit ce livre «Warum Krieg, pourquoi la guerre ? » Il attribue la guerre à la présence, chez chacun d'entre nous, d'une pulsion de mort. Et attribue la guerre à la présence, à chacun de nous, de la pulsion de mort. Ce n'est sûrement pas le meilleur ouvrage de Freud. Non est certamente l'opera migliore de Freud. Mais en tout cas, il avait sûrement l'illusion un peu megalomane que la mise à jour des motivations inconscientes de la guerre allait nous en affranchir. La position de Lacan est différente. La position de Lacan est différente. Elle est différente puisqu'il montre que les pulsions, y compris la pulsion de mort, sont dépendantes de notre rapport au langage. Et que c'est de lui, de notre rapport au langage, que va dépendre notre rapport à la guerre. Une remarque preliminaire, et qui je crois, concerne directement le professeur Leoni. Le moyen grec athénien d'unir un peuple s'appelle la rétorique. Elle s'appelle la rétorique puisque je m'adresse à quelqu'un qui est à la fois mon semblable et différent de moi. C'est-à-dire que je reconnais à la fois la similitude et la différence. Et je cherche dans les lois du langage ce qui peut nous accorder et nous faire prendre des décisions communes. Il est évident qu'il y a un obstacle majeur à la possibilité du partage de la rétorique. C'est la différence de langue. La différence des langues. Celui qui parle une langue étrangère ne peut pas être concerné par les lois de la rétorique. Il est concerné par son rapport à l'idéal. C'est-à-dire que je ne peux pas reconnaître celui qui parle une langue étrangère comme un semblable. C'est-à-dire que je ne peux pas reconnaître comme simile celui qui parle une langue étrangère. Si non comme un ennemi à mon narcissisme et à ma volonté de puissance. Si non comme un ennemi à mon narcissisme et à ma volonté de puissance. Ce qui est intéressant c'est que la jeunesse aujourd'hui. C'est intéressant c'est qu'aujourd'hui les jeunes, grâce à Internet, grâce à Internet, à dépasser cette limite imposée par la différence de langue, pour choisir une sorte de pigeon commun qui s'appelle l'anglais, et pour former une sorte de vaste communauté qui recherche justement grâce aux lois du langage, qui, grâce aux lois du langage, cherche à former une communauté rassemblée par la recherche de satisfactions partagées. Je trouve remarquable que dans la guerre actuelle, la participation de la jeunesse, la participation des giovani, semble se faire malgré elle. Il ne semble pas que les jeunes soldats russes sont une grande passion pour cette guerre. Il ne semble pas que les jeunes soldats russes ont une grande passion pour cette guerre. Il est certain que les jeunes ukrainien subissent cette guerre. plutôt qu'ils ne l'ont engagée. C'est pourquoi je me suis permis de dire que la guerre a nos yeux et aux yeux de celui qui a théorisé la fin de l'histoire, comme vous savez, la guerre comme solution dépassée, solution ancienne, au profit de cette communauté, mondialisée, mondialisée, mondiale, et qui est engagée dans une compétition devenue purement économique, et non plus seulement militaire. Cette supposition, la supposition que je viens d'évoquer, me semble, je dois le dire illusoire, et que la compétition économique est en réalité la poursuite de la guerre par d'autres moyens, est en réalité la poursuite de la guerre par d'autres modèles. Pour donner un exemple simple et rapide, celui, par exemple, qui possède l'industrie des semi-conducteurs, semi-conducteurs, eh bien, peut-être aujourd'hui le maître du monde. peut-être aujourd'hui le maître du monde. Mais, mais, il y a cette restription. Mais c'est cette restription ? C'est par des moyens pacifiques et qui ne sont plus des moyens militaires. Mais la restription est que cette patronance du monde la obtient avec des moyens pacifiques et non plus militaires. Mon exemple, je dirais, n'est pas arbitraire puisque il s'est effectivement, il a effectivement été mis en application récemment. Alors, il mio esempio non est arbitrario parce que recentement est été appliqué par une opposition américaine à la maîtrise des chinois à la padronanza cinese de l'industrie des semi-conducteurs. de l'industrie des semi-conducteurs. Et je vous souligne, mais c'est tout à fait accessoire, que l'isola de Taiwan est aujourd'hui la première au monde dans la fabrication des semi-conducteurs. C'est la première au monde dans la fabrication des semi-conducteurs. Donc nous voyons très bien comment Taiwan va devenir un enjeu militaire. bien que la langue, que leur langue, que la langue de Taiwan soit commune à peu près avec celle du continent. Je voudrais conclure sur la remarque suivante. Nous souffrons de ce qui a été le refus de notre culture, de prendre en compte la dimension de ce dont nous sommes les serfs, les esclaves, c'est-à-dire de tenir compte du fait que nous sommes schiaves, c'est-à-dire les lois du langage, c'est-à-dire les lois du langage, telles que la psychanalyse les révèle. Si j'étais méchant, je dirais tant pis pour nous. C'est le prix que nous allons payer. Et peut-être que Freud avait raison, et je vais terminer là-dessus. que nous sommes des créatures qui, au fond, avons beaucoup de mépris pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le meilleur exemple. de la vie animale. Autrement dit que ce qui nous arrive, et qui peut se terminer mal en Ukraine, et qui peut se terminer mal en Ukraine, ça ne se fait pas malgré nous, non si fait malgré nous. mais ça se fait avec nous. mais ça se fait avec nous. c'est-à-dire notre refus. c'est-à-dire notre refus. c'est-à-dire notre refus. de savoir quelles sont les lois qui nous commandent. de savoir quelles sont les lois qui nous commandent. et si je rappelle que ce sont celles de la rhétorique, et si je rappelle que ce sont les lois qui nous commandent. Je me rends aujourd'hui ridicule. Bonjour. Comment peux-je vous aider? Je me rends aujourd'hui ridicule. Je n'ai pas entendu et je m'excuse. Est-ce que vous pouvez répéter ? C'est-à-dire que si je parle des lois de la rhétorique, je me rends aujourd'hui ridicule. Ridicule. Ecco, si aujourd'hui parlo des lois de la rhétorique, aujourd'hui je rends ridicule. Merci encore au professeur Leoni de nous avoir apporté, je dirais, des questions majeures, parce qu'il est vrai que le sujet historique, c'est-à-dire celui qui n'existe que par son appartenance à une communauté nationale, il est déjà mort. Il est déjà mort. parce que son discours est fixé, est arrêté, et qu'il ne peut faire état que de la dépendance de celui qui déjà n'est plus un vivant, n'est plus un sujet, mais comme quelqu'un... est fissé, est mort et peut seulement testimonier la dépendance de celui qui est déjà mort, qui n'est plus un sujet. mais qui est déjà le soldat d'une armée ed è già il soldato di un esercito grazie della vostra attenzione che ci sono a fare, io vi reagirei a qualche delle idee che ci ha apportato Allora, grazie, charnellement. J'ai notato due, soprattutto, due cose sulle quali io voglio ascoltare ancora un po' se possibile. La prima, c'è quando vi ho detto, c'è il prix che noi stiamo pagare. Ci sono delle criaturi che hanno molto di metri per loro. Ho notato questa, diciamo, diagnose anche su nostra cultura, diagnose praudiana, ma che io trovo comprensibile, partageabile. Allora, io vorrei domandere, cosa vuol dire il prix? Perché il prix è qualcosa che ha due conti. C'è una perdita che permette di raggiungere qualcosa. Quindi, potete, c'è il prix, c'è un prix che vale la pena. Est-ce che questo prix vale la pena di nostra differenza? Est-ce che questa differenza vale la pena? Non è una differenza completamente immaginare e quindi non vale la pena. Est-ce che questa differenza, qui ha un prix, sans dote, qui ha un prix di fragilità, di instabilità, di evanescence, è che questo prix non ha un città per il cui è un prix che vale la pena di essere pagato, al nome di questa differenza e di questa fragilità. Non, 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 non. Non, 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 non Très florissante, très riche, qui est toute animée par les coulisses de quelqu'un d'autre. Je pense à l'époque helleniste, de l'hellenisme. Est-ce qu'on peut renoncer? C'est clair que nous allons devenir les coulisses de quelqu'un d'autre. C'est très clair. Que durra. Ah, scusate, mi sono distanto. Allora, prendevo spunto da una delle cose che Charles Melman ha detto a un certo punto, cioè è il prezzo che pagheremo. Cioè questa relativa, come posso dire, insignificanza, poca rilevanza geopolitica, fragilità nel confronto, diciamo, internazionale, nella prevalenza delle grandi potenze, eccetera, eccetera. Ecco, questa fragilità, evanescenza, eccetera, forse è il prezzo che pagheremo, cioè la scomparsa. Allora, io ponevo questa questione. Davvero sarei molto curioso di sentire come ragiona anche lo psicanalista, oltre che l'intellettuale attento alle questioni della storia e della contemporaneità, ma proprio lo psicanalista, come ragiona sulla questione del prezzo, che è, dicevo, qualcosa che ovviamente paghiamo, cioè perdiamo, ma guadagnando qualcosa, no? Che consente un guadagno. Allora, che cosa perdiamo e che cosa guadagniamo? E forse ci sono prezzi che val la pena pagare, prezzi che non valgono la pena ad essere pagati, ma mi chiedo se questa relativa fragilità e insignificanza non abbia qualcosa che val la pena ad essere pagato, no? Che non ci sia... Che dire che il prezzo che va pagato sia un modo non tanto per liquidare, ma per pensare alla duplicità della situazione. Ecco, mettiamola così. Poi, la seconda cosa che citavo... Scusa, hai detto qualcosa sui cinesi? Sì, infatti, stavo... Ciao, piacere di vederti intanto. Stavo dicendo... La seconda cosa che mi veniva in mente ascoltando il discorso di stamattina di Charles Melmont è una cosa che mi ha scritto in una lettera qualche giorno fa, a un certo punto concludendo in modo molto amaro, ma io credo con lui realistico, e quindi è una questione che va presa molto sul serio. Diceva, nous allons devenir les coulisses des chinois. Noi stiamo diventando, finiremo per diventare i coulisses, che non so bene come tradurlo in italiano, ma non so come dire, i servitori, gli umpa-lumpa in quel film sulla fabbrica del cioccolato, quelli che lavorano al servizio dei cinesi, cioè della potenza del momento. Se qualcuno sa tradurre coulisses meglio che con questa perifrasi, ci aiuti e ci sarà d'aiuto. Allora, Melmont in questa mail mi diceva a un certo punto diventeremo i coulisses dei cinesi. E io, di nuovo, questo mi sembra che abbia a che fare con la questione del prezzo da pagare, del se vale la pena pagarlo, forse del fatto che siccome comunque dobbiamo pagarlo, possiamo chiederci che cosa ce ne viene, che cosa ne conseguirà per noi. come c'è un prezzo che bisogna pagare, ovviamente, che non si può rifusare di pagare, c'è in le cose, c'è in il movimento del complesso contemporane, on può solo noi domandare qual è la conseguenza del fatto di aver pagato questo prezzo. E aggiungo a questo punto che ci sono epoche molto ricche fatte dai coulisses, cioè nutrite dal lavoro dei coulisses, di quelli che all'epoca non si chiamavano così evidentemente, ma di gente che era stata al culmine, come dire, al centro della storia e poi era stata conquistata, poi sostanzialmente, e aveva prodotto qualcosa però di interessante da questa posizione di coloro che sono stati conquistati. L'ellenismo è una lunga stagione ricchissima dal punto di vista filosofico, culturale, artistico, eccetera, eccetera, fatta da coulisses. Dunque mi chiedo se questo prezzo non sia un destino che bisogna assumere, un po' stoicamente, che bisogna assumere invece di subire. E la domanda che io vorrei, la domanda che io vorrei adressare a Mellement, dopo aver ascoltato questa domanda che ha fatto a proposito della rhetorica, che era anche la prima che l'aveva fatta, a dire, le lois della rhetorica in quanto ci stutture il lien politico in Grse e che è talmente anachronico oggi che ci sia qualcosa di un'altra di una lonti a rappelare questo dispositivo talmente anachronico. Là, io mi domanda se questa domanda non è un campo di analisi possibile e poi, io non so ne so quale tipo di conseguenza, ma il faut tutto d'abord conduire questo tipo di analisi potre, io mi domanda se questa considerazione sullo il declino del linguaggio in tant che lieve fondamentale del lien entre i sugi e anche del lien politico della construzione dell'identità del sujet storico-politico è evidente questo non è non il linguaggio ce n'è più solo il linguaggio a offrire questo lieve fondamentale della construzione del lien qu'est-ce qu'il y a au lieu o a coté de ce lieu si vieux noble important qui è il il linguaggio è che l'on pourrait regarder la question di questo altro c'è dire la question più ampia c'è la question dei signi le lien entre humain se fa a travers des signes il y a eu une epoca importante 2000 ans 4000 ans pendant laquelle le signo privilégié a travers lequel le lien s'est fait e aussi la politica l'économia a été le signo linguistico le signo de ce que les philosophes du langage ceux qui étudient la logique appelle le langage naturel est-ce que le déclin de ce type de signo que le signo linguistico marque le déclin de la dimension du signe et donc l'irruption de quelque chose qui reste sans signo sans signifiant capable de représenter le sujet l'un pour l'autre l'un face à l'autre est-ce qu'on peut imaginer ou constater aussi que des autres régimes de signes sont en train de s'installer au centre et dans la position de commande de ce qui fait lien de ce qui dirige qui structure le lien entre le sujet ou le lien peut-être entre des entités qui ne sont plus des sujets au sens du sujet divisé par le langage mais peut-être il y aura des sujets qui sont divisés par autre chose que le signe linguistique notamment le signe mathématique parce à partir du 17e siècle la grande révolution le 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 qui le 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 la construction de la subjectività, la construction de l'objectività, ma c'est-à-traverso di altri signi. Quindi, potremmo che non è solo che siamo senza signi, quindi, nella lontata di lui che è nul perché ha perduto i signi, c'è potremmo che abbiamo altri segni che produiscono altri segni di subjectività e di objectività o altri segni di rapporto contro di termini, di potele che non sono di sulle granne e che non sono di obietta, ma che sono comunque qualcosa che vuole la pena. Allora, traduco brevemente, poi lascio la parola. Partico dall'ultima osservazione che faceva Melma e che era stata anche la primissima, l'esodio del suo intervento di oggi, circa il linguaggio, circa il linguaggio e le leggi della retorica come ciò che reggono il legame, per esempio nella comunità politica greca, lui diceva, e che oggi sono in un tale declino. Il linguaggio non è più così al centro, non è più il luogo di comando e di costruzione fondamentale del legame sociale, del legame intersoggettivo, del legame politico, economico, eccetera. C'è persino da avere vergogna, diceva, e questa era l'ultima considerazione che faceva Melman, c'è persino da avere vergogna oggi a ricordare questa cosa della retorica e del linguaggio, come se Melman dicesse, mi sento un po' fuori luogo e fuori tempo a dire queste cose, perché il mondo è tutto diverso, funziona in tutt'altro modo. Allora io mi dicevo, ma non è che una considerazione di questo tipo ci apre a un campo, io personalmente sono tanti anni che lavoro in questo campo e per questo che mi viene da fare questa domanda, cioè che il declino del linguaggio va iscritto in una questione più generale, cioè quella dei segni, una domanda più generale. Quali sono i segni che comandano, quali sono i regimi di segni dentro a cui si fa il legame sociale, dentro a cui si fa la soggettivazione dei soggetti, dentro a cui si fa l'oggettivazione degli oggetti? È una questione più ampia, si potrebbe dire che il linguaggio, che il segno linguistico sia stato il segno dominante è un fatto storicamente circoscritto, è avvenuto così, è stato prestigioso, è stato l'inizio di una storia prestigiosa di cui tutti siamo eredi, è una storia che ha 2000 anni, 2500 anni, se pensiamo alla Grecia, ma ne ha molti di più, se pensiamo che i greci si pensano come gli ultimi venuti, perché prima ci sono gli egizi, per esempio, dunque c'è un mondo ancora più antico che ha eletto il linguaggio, ha dovuto, non ha potuto fare diversamente, ha dovuto eleggere il linguaggio a luogo fondamentale della soggettivazione dei soggetti e dell'oggettivazione degli oggetti, ma mi verrebbe da fare questa considerazione che sottopongo a Melman, così molto curioso di sapere che effetto gli fa, ma sono quattro secoli che un altro regime di segni è nato e è andato imponendosi in modo sempre più potente, producendo degli effetti che sono non comparabili, sono completamente diversi, inducono una logica una logica differente, una logica della soggettivazione differente, dell'oggettivazione differente, forse inducono degli effetti di organizzazione dell'esperienza che non è più in termini di soggettivazione e di oggettivazione, ma inducono un'articolazione molto precisa del campo dell'esperienza, questi segni sono i segni matematici, prima non l'ho detto nella versione francese di questa domanda, ma lo aggiungo adesso, questione non solo dei segni matematici, ma questione del calcolo differenziale e del fatto che tutto il mondo scientifico contemporaneo è figlio di quella rivoluzione, di quell'invenzione che è di Leibniz del calcolo differenziale, non solo della scrittura matematica in generale, c'è il calcolo differenziale di Leibniz del calcolo differenziale di Leibniz che è ciò che mette in place, ciò che mette in senso la rivoluzione delle scienze contemporane, moderne e più contemporane, e anche di l'economia, per esempio, finanziaria. Allora mi dicevo, forse bisogna ampliare lo sguardo e parlare dei segni in generale, vedere che la grande stagione nobilissima in cui il segno principe era il segno linguistico, certo che declina, certamente non è sostituita e spartata via, ma non è più al centro e non è più esclusiva, un'altra stagione si apre con tutt'altri effetti, forse però interessanti, nella misura in cui potremmo dunque dire, non è che se declina il segno linguistico noi siamo nell'inarticolato, nel magma, non so come dire, psicotico, nella psicosi generalizzata o nella perversione generalizzata, forse siamo in un nuovo regime di segni che produce un nuovo genere di articolazione di cui dobbiamo prendere le misure, e questo è un prezzo, per usare di nuovo questa immagine melmaniana, è anche un po' freudiana, è un prezzo che si può pagare tanto più che non possiamo fare a meno di pagarlo, possiamo interrogarci su che uso farlo. Ce che ci sta dicendo, professor Leoni, è un progresso essenziale nella nostra discussione. La questione è in effetti di sapere se il nostro rapporto con il mondo è regolato da segni, o da significanti, per chi ci ascolta oggi, sono il francese, sono il francese, o da significanti, o da significanti, sono il francese, che non c'è il francese, cioè non c'è segno, che viene affermare son identità, che possa affermare la sua identità. credo che ciò che vi sia di notevole, è che il segno matematico ne provoca alcuna divisione, non provoca divisione alcuna, il implica al contrario la nozione di totalità, e nella sua applicazione tecnologica, il implica la nozione di un potere totalitario riuscito, perfetto, e che non espone al dubbio come invece succede con il significante. Allora lei ci conduce alla questione contemporanea più importante. Siamo i figli del numerico? o siamo i figli del significante? E le conseguenze sono radicalmente differenti. E le conseguenze sono radicalmente differenti. Io vorrei termine par un solo mot, un po' troppo rapido, ma non ho scelta. e vorrei terminare con una sola parola, un po' troppo rapida, ma non ho scelta. ci sono solo due modi di godere, un godimento narcisistico e un godimento oggettuale. e direi che nel nostro rapporto con il linguaggio il godimento narcisistico appartiene al maître e il godimento oggettuale appartiene allo schiavo, al servo. grazie al numero, al numerico chacqu'un può beneficiarciare di un rassemblement su lui-même di queste due gioissanze. ciascuno può godere del riunire in sé entrambi i godimenti grazie al potere del numerico ha la potenza grazie al potere del numerico ha la potenza ossia il godimento oggettuale e questo dà origine a un nuovo tipo di cittadino perchè non è più un cittadino cioè non è più un cittadino perchè non riconosce più la propria dipendenza nei confronti di una comunità riconosce solo il proprio libero arbitrio voilà donc le le remarque che m'inspire votre votre introduzione queste sono le considerazioni che mi sono state ispirate dalla sua introduzione della notion essentielle de signo dalla nozione essenziale di segno e che sono assolutamente contemporane ed essenziali la mia identità è diventata oggi quella di un algoritmo? ecco se permettete sarà la mia ultima domanda la mia ultima questione grazie Charles Melman grazie de tout coeur Cristiana cosa facciamo? non so se tu vuoi aggiungere qualcosa o altrimenti vedo se ci sono domande insomma ci abbiamo no non voglio aggiungere nulla mi sembra faccio faccio solo questo cioè dico questo mi sembra che l'ultimo scambio insomma l'ultima cosa che Charles Melman ha detto anche nel rapporto con quello che io avevo aggiunto poco prima individui un campo di lavoro no? che certamente entrambi abbiamo frequentato e molti altri anche stanno frequentando ma che è un campo decisivo e largamente da lavorare in attesa di essere lavorato cioè che cosa cambia quando diventiamo les enfants du numerique come diceva Melman poco fa cioè cosa succede quando quelli che erano stati fino a qualche tempo prima eh eh les enfants du non non so se si potrebbe dire così i figli del nome forse anche i figli del non sì e diventano invece i figli del numerico che vuol dire anche del digitale che vuol dire anche del segno matematico matematico differenziale che è un segno che non dà nome io sono d'accordo con Melman non dà nome non è un nome e non è neanche un non produce delle differenze cioè che non sono negative e dunque delle identità che non si definiscono come essenti ciascuna non l'altra identità nella misura in cui l'altra identità è non la prima identità cioè siamo fuori dalla dialettica in altre parole dunque per questo siamo fuori dalla possibilità di attribuire le parti nel senso della dialettica hegeliana del padrone del servo e dunque del godimento o narcisistico o d'oggetto che cosa succede se usiamo segni che non nominano e che non negativizzano e questo è il grande tema dell'antropologia contemporanea che cosa diventiamo che altri soggetti diventiamo che cosa d'altro da dei soggetti diventiamo e su questo credo che potremmo discutere lungamente ma non mi pare questo il luogo di farlo ma sarebbe bello farlo un'altra volta sarebbe prezioso io penso però io direi a questo punto magari ascoltiamo se altri vogliono vuoi tradurre in francese io mi limiti a fare un resumio di ciò che èmergato il momento il momento del terreno e la terapia e della terapia che Melman ha dato il ha utilizzato una formazione prezioso io credo cioè noi siamo o noi siamo come i sono i 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 question à venir notre champ de travail qui est déjà fréquenté évidemment mais qui reste comme un des chantiers les plus importants pour le futur, pour notre futur immédiat et ce chantier qui traite à la question qu'est-ce qui se passe au moment où nous qui sont ou qui nous avons été pour tellement de temps des millenies des enfants du nom c'est-à-dire du nom du père mais aussi du nom au sens de la négation, de la négativité du travail de négativisation que le nom introduit dans le sujet en le divisant etc qu'est-ce qui se passe au moment où nous passons de ce régime nous sommes les enfants du nom au régime nous sommes les enfants du numérique quel type de division ou ne pas de division mais d'articulation qui n'est pas de l'ordre de la division se produit-t-il au moment où le régime de signes qui prévaut dans l'utilisation contemporaine dans l'économie, dans la politique dans la formation de nos expériences est un signe de nouveau type qui n'est pas un signifiant qui n'induit pas cet effet d'instabilisation et de doute qu'il m'a justement rappelé est-ce que c'est seulement de l'inarticulé ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre d'une nouvelle articulation qui reste à cerner à étudier et à utiliser est-ce qu'on peut faire un usage dans quelques types de ce nouveau type d'articulation mais là vraiment c'est le résumé du point où l'on est et c'est peut-être la promesse d'un dialogue à venir Merci beaucoup Merci beaucoup Professeur Merci C'est moi qui veux Je vous dirai sûrement oui oui sauf que aujourd'hui Le direi et sans autre si salvo que aujourd'hui nous ne savons plus nous servir du non ni du oui Non non sappiamo plus servirci né del qui c'est le jeu de parole tra non no et nome c'est et 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 c'est devenu un problème social et est diventé un problème sociale c'est 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 discorso e come diceva Federico Leoni apre un campo da indagare forse nelle basi di un dialogo futuro ancora fra Charmelle Moe e Federico Leoni sul sulla stoffa su questa grande trasformazione sulla stoffa del soggetto no e che che è stata così ben descritta e e che resta una grande suggestione quindi per noi oltre lo stupore di essere passati da quel tema a questo chissà perché qual è l'intima necessità di questo passaggio allora vogliamo se ci sono delle domande dare spazio a queste domande altrimenti insomma ci saluteremo quindi invito chi volesse brevemente ad articolare delle domande se c'è qualcuno Cristiana non so se vuoi prima tradurti oppure l'aggona e lìla allora Cristiana ti ringrazio per la vostra intervenzione che ci hanno emmenato verso un rinversement in qualche sorta parte parte del tema della guerra per arrivare alla question di l'etofa del soggete che sicuramente ammènerà a una nuova discussione tra Charmelle Moe e Federico Leoni una prossima volta allora per l'instant se qualcuno ha delle domande un po' rapide a adressare a noi due invité noi les écouteremo volontiers o allora noi metto un terme a cette matinée intanto leggo quello che ha scritto Alessio Ringoli in chat forse bisogna trovare un modo di dare un nome ai numeri forse in questo la tradizione mistica ebraica potrebbe essere d'aiuto si riferisce alla Gematria una domanda che ha scritto Alessio Ringoli potrebbe essere necessario trovare un modo di dare un nome ai numeri e c'è potrebbe in questo che la tradizione mistica ebraica è stata una aiuta questa è la questione che avete posata allora, non ci sono altre questione? no, io vorrei fare una domanda ad entrambi Lila, tu mi traduci, no? ok allora, che se la guerra è un modo del discorso, come ha iniziato a dire Cristiana all'inizio allora, si la guerra è un modo di discorso, come l'ha dire Cristiana au début di sull'intervenzione e se è un modo del godimento, come godiamo quello che appunto aggiungeva Jance e se è un modo di gioissance, come ha pu l'ajouter Jance e se come io credo, rispetto all'ultimo, l'ultima discussione fra Charmell Mann e Federico Leone il significante esercita un'incidenza sur reale, individuale e collettiva e se, come io le credo, a la suite di ciò che ha développato la conversazione entre Charmell Mann e Federico Leone, il significante è un'incidenza sur reale, individuale e collettiva allora, possiamo costruire un discorso altro che un discorso di pace anziché di guerra? allora, possiamo costruire un discorso di pace anziché di guerra? e quello che sembrava dire Jance, che la psicanalisi è un mezzo, forse, per creare le condizioni di questo altro discorso e Federico diceva, non è il solo mezzo, anche la filosofia e Federico diceva che non era l'unico modo, ma che c'era anche la filosofia o che la psicanalisi e la filosofia possono solo arginare la pulsione di morte che è dentro di noi? o che la psicanalisi e la filosofia possono solo limiter questa pulsione di morte? grazie se qualcuno vuole rispondere a Cristina, non so Federico se vuoi dire qualcosa posso fare una domanda? Cristiana, posso fare una domanda? sì, certo, prego Elisabetta no, perché sicuramente parla molto lentamente per farti tradurre di Leoni è stato sicuramente ribaltato da quello di Melman però mi ha spiazzato il passaggio dal suo primo intervento al secondo, effettivamente Elisabetta Spinelli è un po' di dire Lila Lila Elisabetta Spinelli ha detto che ha sviluppato Federico Leoni adesso perché nel primo mi sembrava che è un po' in accordo con quello che dice Freud diciamo la guerra è un po' il ritorno del rimosso di questo godimento di Dasding, di questo godimento di cui si è parlato insomma all'inizio per banalizzare insomma ma e lì ci sarebbero effettivamente come diceva Janche dei suggerimenti perché Lacan parla appunto del sant'homme eccetera mi sembra che Melman ha radicalizzato la questione però il me sembra che Melman ha radicalizzato la questione potrebbe essere ma rimane sempre forse la questione del sintomo cioè di altre forme di scrittura ma ecco non riesco a capire bene il passaggio dal primo intervento di Lili Leoni al secondo cioè come rintegra quello che ha detto all'inizio con quello che ha detto dopo allora il resto è sempre la questione del sintomo di altre forme di scrittura ma non riesco sempre a fare il link tra la prima intervenzione di Federico Leoni e la seconda Elisabetta posso chiederti di quello che tu chiami il secondo intervento qual è il punto che non ti torna rispetto al primo? ma come ti porta a rileggere quello che hai detto prima? perché mi sembra che c'è un salto non lo so io non riesco a fare il collegamento tra i due allora Federico domanda ce che ha eschappé a Elisabetta nella seconda intervenzione che l'ha fatta e Elisabetta explica che non arriva a comprare come ha fatto un scello in realtà tra la prima e la seconda intervenzione che è un scello che è stato stabilito e non lo vedo come anche se nella mia ignoranza devo dire che anche l'uso che Lacan fa almeno a un certo punto del segno non è così negativo come sembrerebbe però questa persona mia e secondo voilà ce che ho potuto comprare il me sembra che l'usaggio che fa Lacan della questione del signo n'est pas si negativo che questo quando parla dell'amore per esempio quando parla per esempio dell'amore trovo a dire qualcosa ma molto davvero rapidamente mi sembra che abbiamo non più molto tempo e vorrei lasciare a chalme il no dello spazio se vorrà usarlo per raggiungere a sua volta delle cose allora non so bene quale sia il salto che colpisce Elisabetta io ho l'impressione di una qualche continuità e quindi non so davvero cosa cosa risponderti mi sembra che se guardiamo complessivamente forse mi aiuta quello che diceva Cristiana cioè mi interrogo su come siamo passati da una prima scena a una seconda cioè da un primo discorso sulla guerra adesso semplifico a un secondo sui segni o sui significanti sul fatto che il significante non è più al centro dunque la produzione di soggetti divisi non è più al centro eccetera allora se la guardiamo così forse è lo stesso salto che dice Elisabetta in altri termini non lo so provo a orientarmi così se la guardiamo così mi viene da dire che in fondo ci chiediamo che cosa spinga a fare la guerra e arriviamo a parlare dei segni o dei significanti o del linguaggio eccetera forse quel che è accaduto in questo spostamento dice che abbiamo seguito la questione verso la sua radice cioè gli animali non fanno la guerra non si organizzano in eserciti il che non vuol dire che non lottino per dei territori che non si sbranino a vicende eccetera ma diciamo non non combattono per il possesso di un territorio e per la difesa di una identità contro un'altra cioè non fanno delle operazioni che sono possibili solo se c'è un linguaggio che fa esistere quelle cose che sono i territori le identità gli oggetti eccetera eccetera se non c'è il linguaggio non ci sono queste cose e non c'è la guerra c'è lo scontro non so come chiamarlo e come gli etologi lo chiamino ma c'è qualcosa che non è strutturato come la guerra questo lo vede con grande chiarezza Bergson Bergson in un vecchissimo libro che io credo sia utile da leggere anche oggi si chiama le due fonti della morale della religione dice c'è la guerra perché ci sono i segni e perché i segni rendono rare le risorse facendone oggetti è una diagnosi quasi marxista è una diagnosi che poi diventa sartreana critica della regione dialettica adesso non è il caso però di fare la storia della filosofia del novecento è solo per dire in tanti modi compreso Freud e Lacan in tanti modi diversi però interroga la questione della guerra vede che c'è un qualche legame con la questione del linguaggio e del segno e dell'oggetto e vede che chi è fuori da questo è dentro a un altro tipo di contesa non dico che è fuori dalla violenza è fuori da quella violenza così organizzata che chiamiamo così che chiamiamo guerra è in un'altra forma di contesa magari altrettanto terribile magari di più ma è difficile dire se di più o di meno perché non stanno in una stessa serie sono mondi differenti cose differenti allora questo direi è il filo conduttore che tiene insieme le due metà del dialogo e forse anche le due come dire sotto sezione di quello che ho detto io dopo però non lo so se questo è soddisfacente e se dà qualche orientamento in più le altre due questioni Federico forse serve però una cosa in francese certo io mi borne molto sintetico a dire al fondo che abbiamo fatto questo mattino abbiamo parlato della guerra in un primo momento dei signi e dei signi in un secondo momento se l'on guarda questa struttura con due voli allora potremmo noi apprendiamo che tutto semplicemente siamo allati alla racina della question abbiamo posato la question della guerra ma non ne vuole non rispondere sulla question della guerra senza posare la question dei signi dei signi, dei signi, del linguaggio di ciò che produce la guerra la disparità la realtà delle risorse la questione qu'il y a un obiettivo al centro del quale si organiza il conflitto eccetera e poi on ha posato una seconda question che è una specie di sous-chapitre di questa prima c'è dire e se le signo change è che la guerra anche change è che la natura anche del conflitto della confrontazione change è che la natura dell'obiet dell'obiet dell'obiettivo tutto ciò è possibile solo sui fondamenti della presenza del linguaggio gli animali non conoscono la guerra ciò che non vuole dire che non conoscono la violenza la destruction eccetera non conoscono la destruction sulle le filosofia non conoscono e che che è la filosofia che ha sempre avvenuto il fatto che la vraia filosofia che non ha ancora che è affermi e quindi l'anti-philosofia è un personaggio anche interna diciamo alla rhetorica e alla strategia di scrittura filosofia ciò che non vuole dire che Pascal sia un antifilosofo au même tito Nietzsche o Platone au même tito di Lacan ma è una risonanza possibile e un note che l'on può fare un'alliance possibile e l'altra cosa che è e poi veramente molto breve che io voglio aggiungere a propos di la question è ciò che possiamo dare un nome a un nome è molto importante ciò che 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 è c'è è è c'è è 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 la ringrazio di interrogarmi su queste questioni che io ne farei che due remarchi estremamente rapidi la première è che farò solo due osservazioni rapidissime la prima c'è che Pitagora ha teorizzato della même façon sans autre conséquence che de casser la speculazione matematique Pitagora ha teorizzato nello stesso modo ma con la conseguenza unicamente di rompere de casser la speculazione matematique beh la speculazione matematica e che d'autre part nommer le nombre e d'altra parte nominare dare un nome al numero c'è evidentemente entrer dans un autre domaine che è celui du signifiant è evidentemente equivale a entrare in un altro ambito che è quello del significante c'est-à-dire mettere le nombre au service d'un tout autre domaine cioè equivale a mettere il numero a servizio di tutt'altro ambito voilà le 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 hier le le les le 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 e naturalmente ringrazio moltissimo Charmelmont e Federico Leoni per le loro aperture illuminanti per la loro generosità, per la loro sapienza e mi sembra che abbiano aperto già un campo per un dialogo futuro hanno ben tracciato una strada diciamo per potersi ritrovare Cristiana Fanelli, scusatevi, ma avete un problema con il vostro micro e se volete che puoi entendere Lila, bisogna che ogni volta che avete finito fermate e riunite, perché questo risponde per voi Ok, quando parli lo attivi, quando non parli lo togli Io ho finito in ogni caso, allora veramente grazie a tutti e andiamo via con tantissime cose su cui meditare, grazie davvero a tutti Grazie a tutti e noi ripartiamo con molti cose e io ringrazio tutti Grazie a tutti e alla prossima, molto prossima, j'espère Grazie a tutti e alla prossima, allora grazie Allora grazie, grazie Federico, grazie Grazie a voi, grazie a voi davvero